Ciao, quest'anno per Natale avrai la possibilità di trasformarti in uno chef per un giorno e assieme a me di aiutare una Ollus dal nome Andos, in Subria, che si occupa di dare servizi sulla prevenzione e riabilitazione del giorno aperato al seno. Come? Con iCookit, il nostro servizio dove noi prepareremo tutti gli ingredienti, le lavorazioni lunghe, le preparazioni verranno tutte eseguite da noi e tu avrai solo il piacere di dedicarti alla rigenerazione e all'impiattamento come se fossi un grande chef. Come riuscirete a diventare chef per un giorno? Io vi accompagnerò con voi, avrete tutti dei video tutorial per realizzare passo passo ogni ricetta. Vedrete che il menù diventerà veramente semplice da fare. Un menù completo dall'antipasto al dolce, tutto a base di pesce, sui toni dell'arancione, proprio perché vogliamo ricordare Andos. Mi raccomando, se avete qualche intolleranza, allergia o semplicemente c'è qualcosa che non vi piace, comunicatecelo perché realizziamo tutto noi e quindi possiamo customizzare il vostro prodotto. Non mi resta che augurarvi un Felice Natale e spero tanto di cucinare assieme a voi.